L'Aggiunta Municipale di Agropoli ha dato il via libera al programma delle mostre artistiche che si terranno nell'affascinante cornice del castello Angioino Aragonese. Il cartellone per il periodo primavera-estate 2021, nonostante le difficoltà e i rallentamenti dovuti alla pandemia, è stato predisposto dal consigliere con delega alla cultura e beni culturali Francesco Crispino e condiviso dal sindaco Adamo Coppola e l'intero esecutivo. Tre le location, la sala dei francesi, le sale nuove e il camminamento. Presso la sala dei francesi è in corso, con termine il 28 maggio, la mostra dell'artista Fabio Calasante, Bestiarium. Si proseguirà dal 29 maggio al 17 giugno con Salvatore Damiano e la sua Anna Ture. A seguire l'associazione Cilento Domani metterà in scena simbologia dal 18 giugno al 21 luglio. Quindi si potranno apprezzare le opere di Gilda Pantuliano, racchiuse nella mostra Parole d'acqua, dal 23 luglio al 9 agosto. Nelle sale nuove si parte invece giovedì 1 luglio fino al 30 luglio con l'associazione Acroterion e associazione Camminare Insieme, che daranno vita a Uomo Natura. Dal 1 al 15 agosto spazio invece ad Antonio Morgese con Agropoli, il neoverismo sociale Totò. Dal 16 al 30 agosto si potranno ammirare invece le Sinfonie di Emozione di Luciano Cirillo. Nel camminamento dal 1 agosto al 30 settembre sarà in esposizione Beautiful Mind dell'associazione Photo Art Community. Nel mese di maggio l'apertura del castello è prevista nei giorni di sabato e domenica, nei seguenti orari, al mattino dalle ore 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. Le mostre artistiche presso il castello, affermano il sindaco Coppola e il consigliere delegato Crispino, sono diventate negli anni una tradizione che veicola un flusso turistico importante e garantisce alla città di Agropoli momenti di grande interesse culturale. Piano piano, torneremo alla normalità puntando sulla cultura.